Una parola che io posso dire è questa, che di fronte all'enigma le parole non si riescono a pronunciare se non facendo confusione e creando ferite. Perciò io quello che posso dire è questo, che ho un ricordo di un professore di grande competenza, di grande cultura, dato molto all'università, nelle varie situazioni, in alcune situazioni particolarmente impegnative, riguardavano il Policlinico Gemelli e quindi una grande riconoscenza per il gran lavoro svolto. Ma di fronte a questo enigma io non so dire altro che invitare alla preghiera.